La serata conclusiva lo scorso 26 ottobre che ha visto la partecipazione di artisti emergenti e dell'intero comitato scientifico. La Mediolanum Art Gallery si propone di attuare un cambiamento nel campo artistico-culturale, oltre a dare una vetrina ai talenti emergenti, mettendo in connessione le eccellenze della filiera dell'arte contemporanea. È un momento, direi, storico per l'arte italiana e i suoi artisti, che restano i protagonisti di questo progetto. Ci saranno 100 artisti contemporanei, viventi chiaramente, da tutta Italia, selezionati da noi, da Spidale Arte, Massimo Ferrarotti, direttore artistico di Mediolanum Art Gallery, da me e due mercanti italiani come Simone Vio e Letiziano Giurini. I nostri progetti cominciano con questo Party dell'arte, proseguiranno il 13 novembre invitati tutti i miei artisti a Parma, nel centro storico, con Salvador Dalì. Ma la qualità è portare insieme a Dalì artisti emergenti del MAG, quindi grosso opportunità per gli artisti. Il progetto avrà delle tappe importanti, voglio citarne alcune, l'America, New York, Miami, ma anche i musei che ci apriranno le porte per i nostri artisti emergenti.